mercoledì 8 marzo buongiorno carissime amiche bianconere che mi seguite qui sul canale che giorno è oggi come poterlo dimenticare festa della donna e quindi tanti auguri a tutte le donne nel particolar modo in particolar modo soprattutto alle donne che mi seguono qui sul canale e poi buongiorno amici bianconeri anche a voi grazie per i tanti commenti sotto i contenuti ho visto che vi ha intrigato abbastanza quello di ieri sera relativamente al a quanto emerso attraverso il tar dell'assio e allora il contenuto di quest'oggi che richiederà altri tanti commenti da parte vostra probabilmente a molti è sfuggito di cosa parlo lo scopriamo prima però mi raccomando se non siete iscritti al mio canale youtube fatelo azionate la campanella notifica e mettete like al contenuto in fondo la puntata se questa sarà stata di vostro gradimento veniamo a quello che è il contenuto di quest'oggi prima però non posso non commentare le dichiarazioni di gabriele gravina presidente della figici il quale nella sempre nella giornata di ieri ha rilasciato questo virgolettato c'è chi parla di riforma dei campionati ma va rifondato tutto il calcio dobbiamo guardarci in faccia ed essere coerenti visionari sì ma mantenendo presente il grande senso di responsabilità non si può più considerare soprattutto l'interesse del singolo dobbiamo privilegiare l'interesse di tutti serve una rivoluzione culturale stiamo lavorando per portare a casa l'organizzazione di un evento straordinario come l'europeo 2032 che permetterà di risolvere uno dei problemi che sta assillando il mondo del calcio ovvero le infrastrutture ecco io credo che siamo entrati un po nello specifico delle dichiarazioni di gravina ma nel contesto si è detto anche molto preoccupato relativamente alla questione dei diritti televisivi lo abbiamo appreso nelle settimane scorse nei giorni scorsi penso che qualsiasi persona normodotata consentitemi di definirla così che abbia un minimo di intelligenza beh deve sapere deve capire che in un momento di tale difficoltà per il calcio italiano sicuramente c'è un problema di infrastrutture stadi fatiscenti strutture obsolete situazioni da sicuramente sistemare per poter pensare di ospitare un evento così importante ma soprattutto per pensare di dare un valore ad un prodotto calcio quello della serie a che va via sempre più perdendo di valore e di interesse tanto che relativamente al concetto dei diritti tv ma anche appunto alla crisi che sta attraversando attraversando il nostro mondo del pallone non si può pensare che in tutto questo si debba attaccare indiscriminatamente una società colei che sicuramente nell'ultimo decennio per prendere quello della presidenza andrea agnelli tanto per fare un esempio ecco lei cioè la squadra che ha immesso in questo calcio una maggior liquidità ha consentito a tante squadre di poter sistemare i propri bilanci ha consentito a tante squadre di poter fare mercato attraverso le operazioni sviluppate con le stesse e quindi qualsiasi persona normale dovrebbe capire che è giusto far rispettare le regole è giusto punire chi sgarra ma va fatto anche con coscienza va fatto tralasciando quelli che sono i rancori quello che è l'astio nei confronti di un presidente o nei confronti di una società perché obiettivamente ce lo siamo raccontati ma continuo a confermarlo la sensazione netta sviluppatasi nel corso di questi mesi è proprio che sia stata colpita la juventus per dare un segnale forte per dare un segnale forte a tutto il sistema calcio ma in particolare ad una società quella che la faceva da padrona quella che però ha consentito lo ribadisco a tante squadre di poter sistemare i propri bilanci parliamo di inter parliamo chiudo scusa di udinese atalanta fiorentina napoli per citarne soltanto alcune e quindi io credo che nelle parole di gravina ci sia del vero ma siano un pochino in contrasto con quanto la stessa figici ha avuto modo di macchiarsi nel corso di queste settimane nel corso di questi ultimi due mesi e a qualcuno deve essere sfuggito a che cosa mi riferisco deve mi riferisco evidentemente a quanto emerso ieri attraverso il tar del lazio che ha imposto a coviso che è alla stessa figici di rilasciare di consentire l'accesso alla difesa di quella carta di quella nota definita 10 940 del 14 aprile 2021 ed è stato il tar del lazio ad imporre tutto questo evidentemente la società juventus così come vi avevo raccontato perché evidentemente mi era stato riferito differentemente da quanto accadde nel 2006 ha deciso di tutelare la propria posizione la propria situazione e quindi di agire davvero come raccontato in sede di insediamento da parte di john el canne del presidente ferrero del direttore generale maurizio scanavino di far valere la propria posizione di difendersi in tutte le sedi senza arroganza ma attraverso il rispetto di quella che è la legislazione di quella che è di quelli che sono i propri diritti e allora è differentemente da quanto tante a parte della tifoseria dipingeva questa società con a capo evidentemente john el canne prossimo a disintegrare una seconda volta la juventus come accadde nel 2006 ecco che invece emerge dalla giornata di ieri che questa società in silenzio sotto traccia aveva già mosso le proprie pedine perché credo che nessuno fosse a conoscenza del fatto che si si era già rivolti al tar proprio per ottenere questa carta importante di cui vi parlai nel corso di un contenuto qualche settimana fa che se fosse stata messa agli atti avrebbe potuto attraverso la data invalidare quello che è stato il ricorso accettato dalla corte federale che ha che ha sancito la penalità di 15 punti contro la juventus rendendo peraltro falsato il campionato comunque perché anche qualora il collegio di grazia dello sport revocasse questa sentenza e quindi accettassi il ricorso da parte della juventus e dei propri legali restituendo i 15 punti sarebbe un campionato che il napoli vincerà e vi avrebbe vinto comunque meritatamente lo stesso ma che dalla seconda postazione in giù è stato sicuramente influenzato da quella che è stata questa sentenza ritenuta iniqua da subito con tanta difformità di giudizio con tante situazioni che abbiamo raccontato e abbiamo preso in considerazione che sono andate a colpire in maniera mirata un'unica società rendendo iniquo un giudizio iniqua una situazione una situazione nella quale la plusvalenza lo ribadiamo per l'ennesima volta non era da considerarsi reato nemmeno un insieme di plusvalenza e potrebbe essere considerato un sistema atto a modificare la possibile iscrizione al campionato della juventus o addirittura come è stato raccontato allo stesso procuratore federale della figici giuseppe chinè alterare il mercato perché attraverso queste la juventus si è permessa giocatori che altrimenti non avrebbe potuto l'ho sottolineato lo ribadisco ciò andrebbe fatto per tutte le società che hanno fatto plusvalenza e che si sono potuti permettere giocatori che evidentemente stando alla considerazione fatta dal procuratore federale non avrebbero potuto questo è falso ma al di là di questo quello che ci interessa è che questo ricorso possa essere accolto che alla juventus possono essere possano essere restituiti giustamente i 15 punti e che voi così come il sottoscritto ci si renda conto che noi ci si renda conto che differentemente da quanto in tanti pensavano è una società questa che stavolta ha deciso davvero di difendersi e quindi si è già rivolta alla tarra del lassio che ha imposto a covizoc e a figici la il rilascio di questa che di questa nota di questa carta dalla quale potrà attingere la difesa attraverso quella data potrebbe emergere un'incongruenza e quindi un vizio di forma e quindi l'invalidazione della sentenza del nei confronti della juventus della penalizzazione stiamo a vedere intanto abbiamo appreso perché forse ai più era sfuggito che ci sia rivolti al tar del lassio che sia la prima volta l'unica lo vedremo rimanete sintonizzati ci sentiamo presto fino alla fine forza juve ciao